suonai a left per salire nella camera che albertine aveva prenotato e che si affacciava sulla valle i movimenti più insignificanti come sedermi sulla panchetta dell'ascensore mi erano dolci perché erano in relazione immediata con il mio cuore non vedevo nelle corde grazie alle quali l'apparecchio si innalzava nei pochi gradini che mi restavano da salire che gli ingranaggi che i gradi materializzati della mia gioia mi restavano soltanto due o tre passi da percorrere nel corridoio prima di arrivare a quella camera dove era chiusa la sostanza preziosa di quel corpo rosa quella camera che anche se in essa avessero dovuto compiersi atti deliziosi avrebbe mantenuto quell'identità quell'aria di essere per un passante non informato simile a tutte le altre che fanno delle cose i testimoni ostinatamente muti gli scrupolosi confidenti gli inviolabili depositari del piacere quei pochi passi dal pianerottolo alla camera d'albertina quei pochi passi che nessuno poteva più fermare li compì con delizia con prudenza come immerso in un nuovo elemento come se avanzando avessi lentamente spostato un po di felicità e nello stesso tempo con una sensazione sconosciuta di onnipotenza la sensazione d'entrare finalmente in possesso di un'eredità che da tempo mi spettasse poi d'un tratto pensai che avevo torto ad avere dei dubbi lei mi aveva detto di andare quando si fosse coricata era chiaro trepidavo di gioia buttai quasi a terra françoise che incontrai nel corridoio correvo gli occhi scintillanti verso la camera della mia amica trovai albertina a letto lasciandole libero il collo la camicia bianca mutava le proporzioni del suo volto che congestionato per il caldo del letto o per il raffreddore o il pranzo sembrava ancora più rosa pensai ai colori che aveva avuto qualche ora prima accanto a me sulla diga colori di cui avrei finalmente conosciuto il sapore la guancia era attraversata dall'alto in basso da una delle sue lunghe trecce nere e ricciute che per piacermi aveva completamente sciolte mi guardava sorridendo di fianco a lei nella finestra la vallata era rischiarata dal chiaro di luna la vista del collo nudo di albertina di quelle guance troppo rosa mi aveva gettato in una tale ebbrezza vale a dire aveva situato per me la realtà del mondo non più nella natura ma nel torrente di sensazioni che riuscivo a malapena a contenere che quella vista aveva rotto l'equilibrio tra la vita immensa indistruttibile che si svolgeva dentro di me e la vita dell'universo così mediocre in confronto il mare che scorgevo a lato della valle nella finestra i seni rotondi delle prime scogliere di manville il cielo dove la luna non era ancora salita allo zenith tutto questo sembrava più leggero da sostenere di una piuma per i globi delle mie pupille che sentivo tra le palpebre dilatate resistenti pronte a sollevare sulla loro superficie delicata a ben altri fardelli tutte le montagne del mondo nemmeno la sfera dell'orizzonte riempiva sufficientemente la loro orbita e tutto ciò che la natura avrebbe potuto offrirmi di vita mi sarebbe sembrato ben misera cosa i sospiri del mare mi sarebbero parsi ben brevi per l'immenso respiro che sollevava il mio petto mi chinai verso albertine per baciarla la morte avrebbe dovuto colpirmi in quel momento mi sarebbe allora parsa indifferente o piuttosto impossibile perché la vita non era fuori di me ma in me avrei sorriso di compassione se un filosofo avesse formulato l'idea che un giorno sia pur lontano avrei dovuto morire che le forze eterne della natura mi sarebbero sopravvissute le forze di quella natura sotto i cui piedi divini non ero che un granello di polvere che dopo di me ci sarebbero ancora state quelle scogliere arrotondate e convesse quel mare quel chiaro di luna quel cielo ma come sarebbe stato possibile come il mondo avrebbe potuto durare più di me dal momento che non ero perduto in lui poiché era lui ad essere chiuso in me in me che era ben lontano da riempire in me dove sentendo lo spazio per ammassarvi tanti altri tesori gettavo sdegnosamente in un angolo cielo mare e scogliere piantatela o suono gridò albertina vedendo che mi ero gettato su di lei per baciarla ma mi dicevo che una ragazza non fa venire un ragazzo di nascosto armeggiando perché sua zia non lo sappia per poi non concludere niente che d'altra parte l'audacia premia coloro che sanno approfittare delle occasioni nello stato di esaltazione in cui ero il viso rotondo di albertina rischiarato da un fuoco interiore come da una veilleuse assumeva per me un tale rilievo che imitando la rotazione di una sfera incandescente mi sembrava girare come certe figure di michelangelo trascinate da un turbine immobile e vertiginoso avrei assaporato l'odore il gusto che aveva quel frutto rosa sconosciuto intesi un suono precipitoso prolungato e stridente albertina aveva suonato con tutte le sue forze